La polizia ha denunciato per furto aggravato una coppia, lei ucraina, di 26 anni, lui un rumeno di 30. La donna aveva portato a riparare un cellulare in un negozio di Piazza Castello. Tornata poi a ritirare il telefono, ha cercato di sottrarre l'oggetto senza pagare il conto di 70 euro. In un primo momento, dichiarando di non avere contante, ha finto di contattare il marito affinché la raggiungesse con il denaro. Ha poi invece afferrato il cellulare e con l'aiuto del complice si è data la fuga, inseguita dalla titolare del negozio. Dopo pochi minuti però è intervenuta una volante della questura che ha bloccato i truffatori. La donna nel frattempo aveva cambiato la sua camicetta per tentare di sviare le ricerche. I poliziotti infatti hanno rinvenuto nella borsa l'indumento utilizzato dalla donna nel negozio.